Ciao ragazzi, sono Femme Madure e siamo al quarto video di oggi e vi spiegherò che cos'è Floor Floor è una specie di telefilm che faceva vedere la storia di una ragazza che lo vedeva mia madre, gli piaceva tanto vedere questa cosa qui e ha fatto due telefilm di questa storia di Floor dove c'era prima una che la odiava Floor, ovvero Delfina e anche la sua madre, ovvero Malala poi dopo Delfina si voleva sposare con quelli che Floor alla fine si rimetteva il primo che si è messo con Floor all'inizio è stato Federico Fritzenwald che prima di mettersi con Floor si è messo con Delfina ma poi la lascia perché ha capito che era cattiva poi al secondo Federico è morto ed è venuto Massimo, il conte alla fine si è messa con Floor e hanno dato alla luce dei bambini Franco, Margherita e Federico come l'ex fidanzatore di Floor e quindi raga e quindi raga vorrei salutare in questo video Manolo da Youtube poi io sono la mia amica, sono da mia amica e e il danno e quindi raga ci vengono a si muove, ciao